La spesa nei supermercati Coop della Toscana si fa sempre più ecologica. Negli ultimi quattro anni, infatti, grazie ad un accordo siglato con la regione toscana, le cooperative di consumo hanno dato un forte impulso alle buone pratiche a tutela dell'ambiente, in particolare per quanto riguarda la lotta alla plastica. La grammatura delle bottiglie d'acqua è stata infatti ridotta del 20%, mentre è stato promosso il consumo delle acque a chilometro zero, con i camion adibiti al trasporto delle bottiglie che hanno percorso 235 mila chilometri in meno. A questo si aggiunge la vendita dei detersivi alla spina, possibile in 20 supermercati della Toscana, ma c'è dell'altro. La riduzione delle buste di plastica e la sua loro sostituzione con borse biodegradabili, che raggiunge ormai il 70% dei pezzi, l'aumento del fotovoltaico che copre ormai il 12% del fabbisogno delle singole cooperative. Risultati ottimi se si pensa che nei supermercati Coop si riesce anche a differenziare il 70% dei rifiuti a fronte di una quota regionale media del 40%, ma non basta. Noi vorremmo che anche altre catene di grande distribuzione seguissero le indicazioni date dalla regione toscana che sono finalizzate a promuovere comportamenti virtuosi da parte dei cittadini in primo luogo, ma perché questo avvenga occorre che i cittadini siano messi come consumatori anche nella condizione di poter dare forza a questi comportamenti virtuosi. In attesa che altri gruppi si accodino, Lega Coop ha deciso di rinnovare l'accordo con la regione.